ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi voglio mostrarvi come vado a realizzare con questo so che un sistema 6s e poi 7s cosa cambia in questi due sistemi è una cosa che mi chiedete in tantissimi e allora 6s o 7s che ho anche i fascicoli su amazon sono diciamo i sistemi più utilizzate per andare a creare pacchi batterie 24 volt però nella realtà cosa cambia ragazzi l'unica cosa che cambia è una cella perché nel 6s ci sono 6 celle nel 7 s ci sono 7 celle perfetto andiamo a creare un 7s anzi un 6s partiamo dal 6s andiamo a mettere le celle così 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 questo è il secondo ok 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 e allora farò un 6s 1 2 3 4 5 10 15 p perfetto speriamo che c'entra questa è storta 2 e 3 1 2 e 3 vediamo dove arrivo 1 2 e 3 1 2 e 3 sono una 2 3 4 5 mentre devo aggiungere un'altra per fare 6s e allora ciò che cambia abbiamo detto che una serie cioè una cella in più che il tutto si riverserà ovviamente anche sulle sulle caratteristiche tecniche della batteria stessa perché non sarà più un 6s perciò 4,2 x 6 sono 25.2 volto massimi se invece faccio 4.2 x 7 sono 29.4 volto massimi perciò quella cella in serie in più ti aumenterà il voltaggio sia diciamo di batteria scarica che di batteria carica ora quando utilizzare una quando utilizzare l'altra tutto dipende da cosa deve alimentare se il tuo carico può supportare 29 volt e allora bene utilizza quella se il tuo carico non può super non può supportare i 29 volt ma è obbligato a fare a avere diciamo 24 volte allora ragazzi con la 6s ok ok abbiamo detto che sono arrivato a 1 2 3 4 5 ora vado a mettere questi e la faccio ancora più grande questi sono i socket quelli modulari ti lascio link in descrizione tutti i prodotti in offerta li trovi sul canale telegram dove vado a inserire giornalmente tutte le offerte e promozioni che trovo online e che i venditori mi riservano ok continuiamo 1 2 e 3 1 ok sto finendo il 6s eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua ok ok e ora vado a fare il 7s così così e così ragazzi questo è una bella super mega batteria 7s 15 ragazzi ragazzi in commercio è rarissimo trovare batterie così 1 perché sono costosissime da fare e perciò non ve le possono regalare non ve le possono vendere a basso costo e 2 perché prestazioni assurde prestazioni assurde perciò parallelo 1 parallelo 2 parallelo 3 parallelo 4 parallelo 5 6 6 s fino a qui 7s fino a qui come abbiamo detto variano le tensioni 29,4 se tutta connesse in serie fino alla 7 s se invece abbiamo 6 sono 25,2 perché ovviamente cambia il voltaggio di un parallelo ecco si raggiunge tutto questo ma è normale che io così abbondato perché si potrebbe anche fare ragazzi si potrebbe anche fare semplicemente così una due tre quattro quattro cinque sei e sette cioè non cambia nulla sempre sette celle serie potrei anche metterne due item o tre item o quattro item o quindici tutto cambia dalla diciamo dalla capacità dall'autonomia che necessitiamo in un avvitatore così puoi anche metterne una e già parliamo di una bici due tre se parliamo di uno scooter ed una motocicletta elettrica e la si deve abbondare perché c'è molta più potenza in gioco serve molta più autonomia se poi ragazzi parliamo di auto è e lì è un altro paio di mani che servono anche 300 400 celle in parallelo per avere autonomia altissime che servono nel caso delle automobili e questo si può fare sia con celle ricondizionate perché queste sono celle ricondizionate ma si può anche fare con celle nuove perché quelle nuove come sai hanno vita un proporzione più lunga qualità e ovviamente se sono originali se sono buone di qualità sono migliori queste sono samsung 29 e te lo ricordo sempre e poi ti ricordo anche oltre a iscriverti al canale telegram e non finirò mai di ripetervelo perché è importante li inserirò ragazzi tantissime offerte sto prendendo accordi con un mio contatto in cina per andare a fare una sorta di collaborazione per un nuovo store dove andrà a inserire prodotti mai visti prodotti a prezzi davvero davvero ottimi in esclusiva per la pagina telegram fox tech iscriviti mi raccomando troverai centinaia e di prodotti interessantissimi sconti mai visti errori di prezzo clamorosi errori di prezzo clamorosi l'ultimo errore di prezzo ragazzi clamoroso è stato un set di giravidi della stanley 57 pezzi 19 euro e 25 di voi più io perché l'ho preso anche per me e ne ho approfittato che facevo lo lasciavo e lo abbiamo acquistato dopo soli tre giorni ragazzi il kit lo stesso kit è salito a 35 euro se non sbaglio per poi finire completamente cioè gli abbiamo preso tutto lo stocco che avevano su amazon spedizione oltre gratuita è stato ragazzi un affarone un errore di prezzo che può capitare sempre infatti io inserisco tantissimi errori di prezzo nel mio canale per farvi voi e fare anch'io affari ho inserito un altro di un monitor 80 euro per computer che l'ho preso lunedì dovrebbe arrivarmi lo monterò in surplus in più come upgrade nel mio computer ragazzi tantissime comunque offerte molto interessanti oltre a questo ti ricordo lo sconto che c'è per ora anche sui fascicoli tecnici cartacei ordinabili su amazon spedizione gratuita con amazon prime c7s 6s fusibili pannelli solari 6s dcs eccetera eccetera e anche lo sconto che c'è sul corso corso batteri maker unico corso in italia unico corso forse anche in europa sulle batterie litio tutto quello che io ho imparato in cinque e oltre anni ve lo svelerò ve lo spiegherò e vi metterò diciamo in linea per avviare una vostra attività di riparazione batterie di bici di scooter di monopattini o di costruirli da zero tutto tramite il mio corso batteri maker tutte le info qui in descrizione mi raccomando valle a vedere clicca sia sul sito trovi tutto il riassunto di tutte le mie attività di tutte le mie idee e non solo ragazzi per questo video è tutto ciao e al prossimo video ciao 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 ciao